RR, gioca anche tu con nomi, vai! Gioca cioè, vai! Una prova che non deve mai mancare, se volete essere come... Morco, il ratto! È la prova della sua mano, allungatelo a 30 gradi e poi, comunque se vi frusta, 1, 2, 3, fate finta di cavalcare le vostre mogli o i vostri mariti, vai! Con l'anca e si va avanti, vai! Vai! The lesson number 3 is very very simple, because I am Marco Curato, vai! La piroetta con il dito putato verso la vostra vittima, vai! Allora, prendete le mani, apritele verso il cielo, vai! Tutti insieme, prendete le mani, apritele, vi ho detto, verso il cielo. Con un slancio, si prende la mano destra, si va da carezzare la schiena sinistra, vai! E si gira così, si lascia loteare il piede sinistro, lo do l'asfalto, vai! L'asfalto, 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 vai! Che ti prendo! Siete pronti? Dai, tutti insieme! Braccio, destro, pirouetta, braccio, destro, pirouetta, braccio, destro, pirouetta, braccio, destro. Destro, dito, braccio, destro, asfalto, dito, braccio, destro, asfalto, dito, braccio, destro, asfalto, dito, rapido! Marco, più rato! La vostra vittima va conquistata con lo sguardo, ma se non avete lo sguardo come Marco, più rato, fate a meno! Rapido! Per fare le prove ci vuole sempre la capire! Volete essere sempre uno come me? Come chi? Insieme Marco, più rato! Insieme, dai! Titolo, dai che mi caso! Marco, più rato! Vai! Prendete il vostro compagno che mi sta alla vostra destra! Dai! Dai che aspetto! Avete capito o no? Prendete il vostro compagno che sta alla vostra destra e mettetelo in front of you! Ok, io vado a prendere il mio compagno! Un attimo, aspettatevi qui, state... Uniti! Vai! Insieme, poco più rata! Allora, siete pronti? Prendete il vostro compagno in front of you! Fatevi fare un giro! Piano piano! Piano piano! Piano piano! In 360 gradi! Adesso, con caro terra! Mi raccomando, siate molto! Very very calm! Piegate le gambe! A ginocchioni! Cari buoni! Come che anche te volete! Ti prendete la testa! E vai! Con movimento! Stocca! Vai! 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 Rotazione del braccio! Vai! Rotazione del braccio! Vai! Vedete? La lezione numero uno! Torna sempre utile! Testa! Braccio! Testa! Braccio! Testa! Braccio! Ok! Siete pronti? Via! Con la lezione numero 6! Vai! Hey! Il vostro compagno è ridotto così? Non importa! Lasciatelo andare! Lasciatelo andare per la propria strada! Lui non farà mai carriera come chi? Vai! Come! Marco! Che urrata! Siete pronti? And now! I got the watch! I do! One moment, please! And now! Do what I do! Ok! Scusate! I, in English, is not very well! Siete pronti? Con la lezione numero 6! One moment, please! Vado a prendere il palo! Un attimo! Vai! Ecco! Ci siamo? Siete pronti? Vai con la lezione numero 6! Vai! Prendete un palo! E vai! Di caduta! Vai! Vai con la caduta! Di tutto il corpo! Vai! Allora! Voi donne! Prendete le mani dei vostri uomini! Oppure! Anche dico! Possono prendere le mani dei loro uomini! Sì! Simpatico! Vai! Siate carini! Prendete la mano del vostro uomini! E allora? Prendete la mano del vostro uomini! Dai! Prendete la mano! E con un colpo di scatto! Gli la mettete nel porco! Vai! Prendete la mano del vostro uomini! E con un colpo di scatto! Gli la mettete nel porco! Simpatico! Stavo scherzobbo! Ma qui?